Ciao a tutti, oggi ripropongo l'esperimento sociale furto al senzatetto. Metterò 100 euro finti nella ciotolina durante la celebrazione delle messe. Secondo voi li prenderanno? Guardate! Stai venendo freddo? No! Stam... Cioè per essere quasi sotto... E ancora? Ho giocato una volta i quadri. Sento... Si è presi soldi... Prima si è presi soldi... Si è presi soldi... ... ... Continuando! A presto i soldi... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Grazie. Grazie. Sì, ma non devi prenderli. Non devi prenderli. No, no, signore. Sperimenti. Cosa c'è una sperimentazione? Non c'è niente. Infatti stavo chiamando... L'ho chiamando la polizia, no? Non c'è niente. No, non c'è niente. Ehi, ma... Non c'è niente. Non c'è niente. Non c'è niente. Alla prossima. Non c'è niente. Tempare in Novi. Ehi, ma... Ehi, ma... Ehi, ma... Ehi, ma... Ehi, ma... Ehi, ma... Ehi. L'ultimo ha preso la presa, la presa. L'ultimo ha preso la presa. L'ultimo ha preso la presa. Guardate perché non se ne accorgete davanti alla chiesa. Grazie per la visione!